I titoli di oggi. Salviamo il sociale. Sanità pubblica trascurata. Olimpiadi a Cortina. Mondiali di calcio in Qatar. Emergenza abitazioni. Ci rivediamo fra 30 secondi dopo la pubblicità. Essere ascoltati. Trovare vicinanza. Difesa dei tuoi diritti. L'assistenza di professionisti in grado di risolvere i tuoi problemi. SPI CGL. Ogni giorno a tua disposizione nelle sedi in tutta la provincia e in particolare in questo momento anche con la modalità telefonica. SPI CGL. L'ascolto. Una risposta. Ben ritrovati con l'informazione del sindacato pensionati della CGL. Salviamo il sociale. Martedì 29 scorso CGL e Cisleguil del Veneto hanno organizzato una manifestazione regionale a Venezia per sollecitare la regione ad assumere provvedimenti urgenti al fine di contrastare l'emergenza ed il disagio delle strutture sanitarie. Alla regione viene richiesto uno stanziamento di risorse aggiuntivo nel bilancio 23 attualmente in discussione per coprire l'aumento delle rette di residenza per anziani per incentivare l'assunzione di personale nelle RSA, nei centri diurni, negli ospedali. I sindacati chiedono inoltre interventi straordinari per le famiglie in difficoltà incrementando il fondo per gli affitti e sostenendo le spese di riscaldamento e di elettricità. Quasi tutte le strutture per anziani nella nostra provincia hanno problemi con il personale e di conseguenza sono costrette a limitare il numero degli ospiti. Questa situazione, aggiunta ai rincari del combustibile e dell'elettricità, rischia di mandare in default i bilanci. Una delegazione di CGL e Cisleguil è stata ricevuta dopo la manifestazione dai capi gruppo del Consiglio regionale. Sono state date assicurazioni di attenzione da parte della maggioranza, ma nei limiti delle risorse disponibili. La sanità pubblica trascurata La nuova finanziaria presentata dal Governo non va certo nella direzione giusta per quanto riguarda la soluzione dei problemi elencati sopra. Nella manovra appena varata la sanità non avrà risorse necessarie, perché i 2 miliardi in più non copriranno nemmeno il deficit determinato dal Covid e dai rincari delle bollette. Nella sanità si è creato un buco di 3,4 miliardi e in queste condizioni è diventato difficile assicurare le cure a tutti ed assumere il personale necessario. Il fabbisogno di personale sanitario è diventato un'emergenza nazionale, Ma sarà in futuro ancora più difficile far funzionare le strutture, finanziate con i fondi del PNRR, che per il rilancio dell'assistenza territoriale investe 7 miliardi di euro. I cantieri stanno partendo, ma con quale risorse si pagherà chi ci dovrà lavorare se già oggi il personale scarseggia? È una questione di risorse, è vero, ma allora perché nella stessa manovra si sono voluti regalare miliardi di euro estendendo la flat tax e rendendo il fisco ancora più iniquo? Liste d'attesa Una sanità a due facce, in cui il settore pubblico segna il passo, mentre cresce ancora, anche a causa delle lunghe liste d'attesa, la spesa di cui gli italiani sono costretti a farsi carico, dovendo rivolgersi al privato. Gli ultimi dati, provenienti da un monitoraggio dell'Agenas, Agenzia Sanitaria Nazionale per le Regioni, fotografano una situazione di sofferenza che va avanti da tre anni. Asle e ospedali non riescono ancora a recuperare il lavoro andato perso dal drammatico 2020. Il dato più significativo è quello relativo alle visite di controllo, cioè alle visite specialistiche per chi ha già una diagnosi o per chi ha una patologia cronica. Secondo l'Agenas, nei primi mesi di quest'anno, sono state effettuate 13,7 milioni di prestazioni, circa 3,4 milioni in meno rispetto al 2019. In altre parole, saltate in media, una visita di controllo su 5. In alcune ragioni va anche peggio, in Sardegna, Calabria e Sicilia venire meno addirittura una visita su 3. Meglio regioni come la Toscana, meno 10%, seguita da Marche, Puglia, Lombardia e Emilia Romagna, meno 15%. Mentre il servizio pubblico arranca, i privati lucrano. Secondo un rapporto del Ministero dell'Economia, la spesa a completo carico dei cittadini è aumentata nel 2021 di 3 miliardi rispetto al 2019, passando da 34,8 miliardi a 37 miliardi. In dieci anni questa spesa sarebbe cresciuta di circa 10 miliardi. Notizie dall'Europa Notizie dall'Europa Donne nei consigli di amministrazione, nuove norme per la parità di genere. Tutte le grandi società quotate in borsa all'Unione Europea dovranno adottare delle misure per ammontare il numero di donne presenti nei consigli di amministrazione. È infatti in essere la discussione della direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione che introdurrà procedure di assunzione trasparenti nelle aziende. L'obiettivo è quello di garantire che entro il 30 luglio 2026 almeno il 40% degli amministratori non esecutivi o il 33% degli amministratori delle grandi aziende siano donne. Secondo la legislazione, già concordata con i governi, i Paesi dell'Unione dovranno introdurre sanzioni dissuasive proporzionate come multe per le aziende che non rispettano procedure di nomina aperte e trasparenti. Inoltre, si dovrà designare l'organo giudiziario che avrà la capacità di annullare la creazione di un consiglio di amministrazione designato dagli aziende in violazione alla direttiva. Allo stato attuale, solo il 30,6% dei membri dei consigli di amministrazione delle maggiori società quotate in borsa nell'Unione sono donne, con differenze significative fra i Paesi dell'Unione Europea dal 45,3% in Francia all'8,5% a Cipro. Olimpiadi di Cortina La Regione Veneto, invece, metterà altri fondi per le Olimpiadi di Cortina. 85 milioni di euro dovrebbero essere destinati solo per il rifacimento della pista da Bob, un'opera questa tanto discussa e criticata, destinata sicuramente a diventare un'altra cattedrale nel deserto. È desolante vedere come in presenza di una crisi climatica, energetica, con milioni di cittadini alle prese con difficoltà economiche, con il pericolo di danni ambientali, si insista su un progetto costoso e senza alcuna utilità futura. La consigliera comunale di Cortina, Roberta De Zanna, aveva su tale questione presentato una mozione per sollecitare tutti i consiglieri ad assumersi personalmente la responsabilità di quest'opera di fronte alle generazioni future. La mozione non è però stata inserita all'ordine del giorno, probabilmente per non mettere in difficoltà il consiglio e scaricare su altri il peso della decisione. Mondiali di calcio in Qatar Qualcuno li ha già chiamati i mondiali della vergogna. Far giocare i mondiali di calcio a dicembre è stata una scelta bizzarra. A segnale i giochi al Qatar è stata una decisione assurda, sia economicamente che dal punto di vista sportivo. È stata una concessione agli emiri di quel paese da parte della commissione della FIFA, che nel 2010 aveva preferito il Qatar agli USA. Negli anni successivi parecchi esponenti di quella commissione sono stati indagati ed accusati di corruzione. Gli stadi, costruiti da lavoratori chiamati dall'India, dal Nepal, dal Pakistan, sono stati realizzati con turni di lavoro massacranti, in condizioni ambientali estreme, con stipendi più bassi di quanto promesso e con il sequestro del passaporto per tutta la durata del contratto. Secondo una denuncia del britannico The Guardian risalente al 2021, dal 2010 ad oggi nelle opere infrastrutturali legate ai mondiali di calcio sarebbero morti 6.500 lavoratori. Solo nel 2019 il Qatar, per rispondere allo scandalo della mortalità nei cantieri, ha introdotto una limitazione del lavoro nelle ore più roventi ed un'assicurazione per gli incidenti sul lavoro. Il Qatar è un paese tra i più ricchi al mondo, con un reddito pro capite pari al doppio di quello italiano, dove però la limitazione dei diritti civili è ancora molto marcata. La sciaria viene applicata in maniera meno plateale rispetto a paesi vicini, niente decapitazioni in piazza, per esempio, però le relazioni omosessuali vengono punite con molta incarcerazione fino a 7 anni. Negli stadi sarà proibito mostrare bandiere arcobaleno, simbolo delle minoranze sessuali. Nel punto di oggi parleremo della legge di bilancio e delle nostre pensioni. Con il deposito alla Camera del testo della legge di bilancio 2023 si apre l'iter parlamentare per l'approvazione della manovra stessa. I tempi sono strettissimi, visto che la manovra va approvata al Parlamento entro il 31 dicembre, per evitare che scatti l'esercizio provvisorio. La legge di bilancio è composta da 174 articoli, propone interventi per 35 miliardi di euro, di cui 21 sono destinati al contrasto del caro energia di imprese e famiglie. La versione depositata del testo non modifica gli articoli più discursi da quello che elimina le multe per gli esercenti, che non consentono di usare il POS per i pagamenti fino a 60 euro, al tetto per l'uso del contante, alzato da 1.000 a 5.000 euro. La manovra di bilancio del governo Meloni si finanzia con il taglio della rivalutazione delle nostre pensioni e con la tassazione degli extraprofitti, pertanto già prevista e solo una parte aumentata. I pensionati italiani con queste azioni vengono quindi trattati come un banco ma dalla stregua di aziende che hanno fatturato miliardi di euro. Pensioni da 1.500-1.600 euro netti al mese, frutto di oltre 40 anni di lavoro e di contributi versati, vengono fatte passare per ricche. Infatti il meccanismo di rivalutazione, una conquista del sindacato, è stato cancellato e riscritto senza un confronto con le parti sociali da parte di questo governo. Con questi soldi che tagliano noi, si fanno condoni, si aumenta il tetto del contante, si porta la flat tax a 85.000 euro. Con questo nuovo meccanismo di adeguamento all'indicizzazione, ci sarà una perdita media pro capite di oltre 1.200 euro all'anno per 4.300.000 pensionati. L'adeguamento delle pensioni al costo della vita subirebbe così una drastica riduzione, in particolare per quei pensionati che hanno lavorato, come dicevamo prima, e versato contributi per 40 anni e oltre, e che non percepiscono affatto un assegno alto, ma di 1.800 euro netti al mese. Siamo sostanzialmente parlando di pensioni di lavoratori dipendenti, frutto di una vita di lavoro, e che ora rischiano di avere una rivalutazione di gran lunga inferiore a quella che dovevano percepire secondo la legge in vigore. È una scelta troppo iniqua, per questo saremo in piazza come sindacato dei pensionati della CGL, il 16 dicembre a Roma, per manifestare il dissenso a queste misure. Emergenza abitazioni In provincia il problema della carenza di alloggi e l'elevato prezzo degli affitti sta penalizzando gli imprenditori nell'assunzione di nuovo personale. In autunno il problema è maggiormente sentito in quanto arrivano i lavoratori legati alla scuola, ma anche i lavoratori stagionali impegnati nel turismo. L'Ulst Dolomiti, la ceramica Dolomiti, l'Unifarco di Santa Giustina intendono attivarsi in forme diverse per attrarre nuovi lavoratori, offrendo loro una soluzione abitativa. La criticità interessa quindi tutti i settori, da quello industriale a quello sanitario, commerciale e turistico. La questione di fondo è che, pur non mancando gli immobili sul territorio, molti proprietari preferiscono tenere le abitazioni sfitte, locarle solo a persone conosciute. Può capitare quindi che chi viene da fuori sia poi costretto a rinunciare al lavoro, non riuscendo a trovare una soluzione abitativa. Conoscere per agire Conoscere per agire è il titolo dell'iniziativa che sabato 3 dicembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, vedrà la presentazione del libro Per sempre altrove, con la partecipazione dell'autrice Barbara Cagni. Interverrà la dottoressa Paola Mantuano, psicologa e psicoterapeuta. L'incontro si svolgerà sabato 3 dicembre alle 17.15 al secondo piano di Palazzo Bembo, in via Loreto 2 a Belluno. Introduce Paola Cassandra, del coordinamento donne SPI-CGL. Conclude Denise Casanova, segretaria Filt-CEM-CGL. L'iniziativa è aperta a tutti. Il coordinamento donne dello SPI-CGL ringrazia fin d'ora della partecipazione. Termina qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. L'appuntamento come sempre fra 15 giorni con la informazione dello SPI-CGL di Belluno. Grazie per averci seguito.